Ero benvenuto ragazzi e soprattutto ben ritrovati nell'ultima main build che praticamente chiude il ciclo sia con i giocatori che sono usciti questi giorni, abbiamo fatto comunque di giornata usciti ieri Leao, Macherele, poi Cannavaro e anche, aspetta sono i dimenticati, sono troppi, ah Tomori, sì Tomori Big Time, in più oggi vi ho tirato fuori anche le build di Kimmich che avevo saltato, vi ricordate? E anche del Neymar regalato, per cui secondo me era necessario fare un'analisi approfondita anche perché è una carta molto interessante, una carta che comunque viene regalata, è una versione di Neymar molto utilizzabile, molto equilibrata su tanti aspetti e quindi secondo me era giusto farla Di Kimmich abbiamo fatto una reanalisi in caso l'aveste messo da parte perché secondo me se avete preso quella carta avete preso magari inconsapevolmente il, colpa mia che non ho fatto uscire subito il video, il centrocampista più forte, più completo sicuramente del gioco assieme a De Jong, versione del Barcellona Qua ragazzi c'è un'altra carta che è totalmente disumana, sgravata, fortissima, micidiale, che è Musiala, talento micidiale del Bayern Monaco, giovanissimo, giovanissimo Non so se questa sia una versione che è presa proprio da quest'anno, una versione comunque più vecchiotta, Musiala Massimo è 21 anni infatti, questa invece è una versione di lui dell'anno scorso, di quando aveva 20 anni Ma è una carta veramente straordinaria, data, non mi ricordo in quale periodo viene esaltato il big time e soprattutto ha una capacità, a differenza degli altri Musiala, di essere punitivo, sottoporta, veramente devastante Il che lo rende un fattore, anche perché comunque è un giocatore estremamente skillato, estremamente abribe e abile, perché sia abile che è forte sulle ali, quindi diventa alibbe Dove sostanzialmente vediamo una carta che ha veramente tutto sui tiri, perché ha tiro a scendere, tiro di prima, tiro da lontano, lancio lungo, quindi tiro da lontano sarebbe a giro dal distante ragazzi La traduzione è che praticamente va a dare gli football hub in italiano, sicuramente bisogna darle qualche carta sul passaggio, passaggio di prima, calibrato e scavalcare Dubbiamente ci devono essere, anche la riserva di lusso, questa carta Per finirla io gli darei comunque anche la crocchetta, la Neymar, li metterei elastico e poi gli darei anche un'abilità in più sul tiro, che è il tiro di collo Il che va a renderlo veramente devastante, giocatore chiave, carta fortissima, secondo me si avvicina molto come qualità ai livelli di cacca, giocatore chiave del Milan Quindi la versione del Milan è a Cruyff, solo che Cruyff è più completo, sa fare più ruoli offensivi, però Musiala ha la capacità invece di gestirsi più ruoli sul centrocampo Perché è una carta che può giocare anche da centrocampista, quindi in un ipotetico rombo da mezzala non sfigurerebbe Così come non sfigurerebbe in un ipotetico 4-3-3 con le due mezzali, se lui è uno delle due mezzali che verte sull'inserimento Diventa una carta piuttosto interessante e difficile da contenere La prima versione che vi propongo, che è una versione che io definisco finalizzatrice Ha praticamente un bel po' di punti appunto sulla finalizzazione Perché questo? Perché essendo un giocatore che va ad inserirsi tanto, grazie all'abilità giocatore chiave Grazie anche a di com skills, quindi diciamo le abilità che ha nella corsa che lo rendono ancora più forte da un punto di vista dell'inserimento Secondo me era importante curare questo aspetto in questa prima versione Per renderlo un giocatore che quando arriva davanti alla porta fondamentalmente non sbaglia Punisce al 90% delle volte il portiere avversario E soprattutto perché la quantità di punti e la base di partenza da cui iniziavamo nella costruzione della carta Ci permetteva di spingere tanto su questa fattispecie In specie quasi ad arrivare anche a un tiro a giro sopra lo scalino degli 85% Quindi arrivando a toccare quasi 90% E guardate però che roba, abbiamo comunque un'accelerazione top perché raggiunge lo scalino del 95% Abbiamo una velocità devastante perché è una carta che corre comunque a 90% Ha una tecnica sublime, vedete il dribbling che è veramente fenomenale senza rinunciare a una buona quantità di passaggi I passaggi che vengono poi rinforzati anche dalle abilità che vi consiglio comunque di dare a questa carta Detto questo ci sono tantissime altre possibilità di versione Potremmo fare una versione del genere che va comunque ad avere una finalizzazione di 85% Una buona qualità di tiro a giro e migliorare ancora di più la sua qualità nel dribbling Anche una roba del genere per esempio sarebbe eccezionale perché rendereste comunque la carta Veramente difficile a contenere e dare un'altra spinta, un altro colpo sicuramente anche all'accelerazione In modo da portare il balance a 95% Quello deve essere il nostro obiettivo finale però vedete che per un punto purtroppo non ce la facciamo Allora a quel punto si può rinunciare a un tocchetto di passaggio E andare a dare l'ultimo punto di basso di nuovo sulla forza aerea Anche perché comunque c'è un punto meme questo banalmente che andiamo a dare Perché sì, anche se si potrebbe dare il punto meme più sulla difesa Perché comunque a livello di forza fisica non andiamo ad impattare niente Non spostiamo assolutamente nulla Questa versione sinceramente mi piace ancora di più Perché esalta le qualità tecniche di Musiala Soprattutto da un punto di vista quindi del dribbling, del possesso stretto e del controllo palla Ma non è finita qui perché potremo anche rinunciare completamente alle sue qualità di passaggio Visto che andiamo a dargli le carte e spingere un po' la finalizzazione Per migliorarli ancora di più il tiro a giro E raggiungere quel bug disumano sul dribbling che va a toccare 101 Che non è che bugga più di tanto in generale perché comunque 101 rimane comunque nella scalino dei 100 Però la cosa che viene buggata sostanzialmente è il ball control che arriva chiaramente a 95 A questo punto secondo me questa è la versione più rotta, la versione più estrema Ma è la versione che esalta al meglio le qualità di Musiala Si può pensare ancora di intervenire sempre su quelle che sono i concetti di velocità e di accelerazione Andando ad avere una roba del genere dove semplicemente si porta il tiro a giro a un valore accettabile E si spinge tantissimo sul discorso della velocità Arrivando più o meno a questi valori E aumentandoli chiaramente la potenza di tiro La resistenza che arriva a 86 quindi supera lo scalino degli 85 Ne migliora chiaramente la durata in campo E quindi ragazzi abbiamo un giocatore che possiamo utilizzare per tutti i 90 minuti virtuali Anche questa carta se doveste averla messa da parte Sicuramente vi consiglio di rispolverarla Vi consiglio di provare queste versioni che in base un po' al vostro modo di giocare Possono essere le più idonee, le più adatte Perché è un giocatore che veramente è buggato e infermabile in game E vi darà sicuramente tante tantissime soddisfazioni Non sottovalutatelo, dateli una chance di più Provatelo una volta che rifate la build per almeno una ventina di partite In maniera continuativa e soprattutto divertitevi Perché questa carta veramente lascia il maggior spazio alla fantasia possibile Finalmente abbiamo finito con le main build Ci vediamo giovedì in caso Konami Giovedì tiri fuori qualche build su cosa Diciamo così che meriti di stare nelle main build Vi faccio le build che mi avete fatto su richiesta Su Kik E scoprirete quali sono queste build Se entrete nella chat generale di Telegram Dove appunto la lista viene costantemente aggiornata Oppure semplicemente spulciando su Kik Potrete capire quali giocatori sono stati aggiunti Buona giornata ragazzi E a domani perché finalmente arriveranno anche altri contenuti sul canale Ciao